Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bene Escono queste coppie È il momento di un altro gruppo di competitori E ci propone un altro bellissimo balser biannese Prego Bellino Sì ma questo biannese non è... È il momento di un altro bellissimo biannese non è... È il momento di un altro bellissimo biannese non è... È il momento di un altro bellissimo biannese non è... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti